Ma dove siete bastardi, venite? Porco Dio, ma non mi lo so tutto qua. Ma dove chiama? Ma dove chiama? Mi manca il picchiato, bastardi, ma venite porca puttana. Signora, mi dici dove chiama? Ma io non ti ho detto. Da dove, signora? Chiamano 50.000 persone, se no mi dici chi è lei. Allora c'è il banco, ma è quasi. Da dove chiama? Siamo vicino a quello della luce. Vieni da qua, venite qua. Signora, mi dici la strada, mi la dici questa strada. Sta rompendo tutto, sta rompendo. Eh vabbè, continuiamo così?